Sono quattro anni che faccio la dog sitter. Prima era più una hobby nei weekend, poi ho visto che mi piaceva ed è diventato un lavoro quotidiano. E lei studia anche Marina? Sì, certo. Martina. Sono al quinto anno di medicina e in più faccio volontariato, ho un corso di cucina, diciamo che mi tengo abbastanza impegnata. Che brava! Lei non sa come invidio le persone che riescono a fare tante cose contemporaneamente, io non riesco a fare niente. Quindi Ugo ha un bulldog francese, no? Esatto, di razza blu. È molto delicato, non bisogna stressarlo mai. Mi raccomando, lei deve fargli fare tutto quello che vuole lui. Può stare tranquilla. Senta, io ho molto intuito, sa? E lei mi piace. Bene. Lei adesso si può prendere Ugo e se lo porta via. E me lo riporta a lunedì quando torno, va bene? Benissimo. Grazie mille, davvero, sono molto contenta. Non se ne pentirà. Gregorio? Io te la stacco quella mano se tu non mi fai bene il diesis, cazzo! Scusa, zio. Grazie mille. Grazie mille.